Zorba, per una legge che non abbiamo inventato noi, ma che dobbiamo accettare anche a spese del nostro orgoglio, sarebbe morto, come tutto, come tutti. E la seconda dipende da noi evitargli una fine atroce, dolorosa. Amare non significa soltanto fare la felicità dell'essere amato, significa anche evitargli le sofferenze e salvaguardare la sua dignità. Quell'uomo conscio che il polline viaggia attaccato all'arbitrarietà del vento, che aspetta fiducioso la terra fertile, quell'uomo è mio fratello. Mi avviai verso la fila di telefoni pubblici. Sapevo che a casa, a casa mia, nella casa tradita, una donna, mia moglie, dormiva ignara della sua vittoria, perché era lei la vittoriosa di quella battaglia dalla quale l'amore si ritirava con la coda tra le gambe. E poi mi ha mostrato l'invenzione di cui andava più fiero. Come si sa, ha esordito, una delle invenzioni meno considerate, ma non per questo meno indispensabili, è il pannolino usegetta, sia per bambini che per adulti. Ah, il pannolino ha reso meno pesante la vita delle mamme. Lo vidi sorridere e riprendemmo a correre guidati dall'odore. In una zona in alto, ma ancora vicino al fiume, c'era una capanna costruita su delle palafitte e tra le foglie di palma intrecciate del tetto salivano deboli volute di fumo. Ci avvicinammo e solo quando fumo, a pochi metri di distanza, Nusigno mi disse che lì viveva uno strano vecchio, un bianco, che parlava pochissimo. Grazie a tutti.